Dalle tragedie di Ercolano e Pompei alle spettacolari eruzioni hawaiane, dai vulcani sottomarini agli immensi crateri presenti su Marte e Venere, i vulcani sono da sempre fonte misteriosa di vita e di morte, giganti benigni e malevoli insieme che veiano sull'uomo dalla notte dei tempi. Essi ci svelano gli avvincenti segreti del nostro pianeta in un viaggio alla scoperta delle millefacce del vulcanismo. A parlarcene Michele Lustrino, Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università La Sapienza di Roma. I vulcani sono un oggetto estremamente complesso e purtroppo ne conosciamo ben poco. Di certo i vulcani hanno influenzato in modo positivo e in modo negativo tutte le ere geologiche, in particolare sul sviluppo o meno di forme di vita. Illustrerò in modo molto semplice come gli effetti possono essere nefasti o possono essere essenziali per lo sviluppo di nuovi organismi. Quindi sarà un discorso ad ampio respiro su concetti, penso, particolarmente importanti. Il problema dell'Italia è che abbiamo una scarsissima conoscenza della cultura scientifica. Quindi benvengano tutte le manifestazioni che provano ad avvicinare i ragazzi delle scuole medie superiori e inferiori a un argomento che potrebbe sembrare ostico o difficile ma che assolutamente è pieno di sorprese. Vulcani, cosa come dove, è solo il primo di un ciclo di cinque incontri organizzati dalla Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali della Sapienza. Una serie di incontri rivolti agli studenti delle scuole medie inferiori e superiori ma aperti a tutti, pensati dunque non solo per i giovani ma per tutti coloro che desiderano ampliare le loro conoscenze scientifiche alla scoperta dell'affascinante mondo della fisica, della matematica e della scienza.